Gli aiuti del governo rivolti solo a Taranto, mentre Gela rimane una città dimenticata, tutta colpa della classe politica che ci rappresenta, lo dice in una nota il leader di un'altra Gela, Lucio Greco, in merito alla crisi economica e sociale che sta attraversando la città, acquita dalla chiusura della raffineria. La carenza di una classe politica qualificata e capace di interpretare le istanze fondamentali della comunità, scrive Greco, soprattutto nella situazione complessa creatasi con la chiusura dello stabilimento, limitano la forza di contrattazione tanto nei confronti dell'industria quanto nei rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali. Così, mentre per Taranto, città simbolo a Sima Gela del degrado economico, sociale ed ambientale causato dall'insedimento di importanti industrie, proprio a Natale, il 24 dicembre scorso, è stato varato dal governo Gentiloni un decreto legge con cui vengono stanziati 108 milioni di euro di risorse destinate alla città pugliese e sulla sua sanità, in particolare oltre a 30 milioni per le famiglie disagiate. Per Gela, invece, niente di niente, neanche l'ombra di una semplice attenzione. Ma c'è da meravigliarsi per questo diverso trattamento, si domanda Greco? Assolutamente no. E diciamo finalmente la maravidità. Noi gelesi dobbiamo prendere atto della delegittimazione di chi dovrebbe rappresentarci sia a livello locale che regionale ed abbandonare quindi il campo da ogni possibile ottimismo. Quale credibilità e quale forza contrattuale possono avere, infatti, un sindaco ed un governatore dai quali prendono le distanze persino gli stessi partiti di appartenenza? Quale credibilità può avere un sindaco che, espulso dal Movimento 5 Stelle, sia inventato, pur di galleggiare, un movimento locale privo di qualsiasi identità? Quale credibilità può avere un governatore che annuncia urbi e torbi risultati economici ed occupazionali entusiasmanti per essere smentito, subito dopo, dai suoi stessi uffici, che parlano invece di una situazione economica ed occupazionale disarmante e seriamente preoccupante, se non addirittura drammatica, per la nostra regione? Dispensare ottimismo, così come fanno Messinesi e Crocetta, e ricorrere a dati falsi, chiude Greco, può funzionare solo per qualche giorno, ma poi alla lunga si procura solo discredito. Al punto in cui siamo arrivati ci vuole una vera e propria inversione di lotta.